Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa un punto con una squadra forte come il Verona, siamo stati bravissimi a reagire subito dopo i gol presi e siamo contenti. La Spezia è un'altra squadra forte, ci sono degli ottimi giocatori, però se la affrontiamo come abbiamo affrontato il Verona, il Crotone può fargli davvero male, quando giochiamo con questa determinazione, voglia e voglia di far punti possiamo giocarsela con tutti. La Quare è sempre stata una cosa che ho sempre avuto, quando entro in campo sono concentratissimo anche in allenamento, do sempre tutto e ci tengo molto a fare le cose bene, anche la squadra che si metta bene anche in allenamento. Dobbiamo riuscire a trovare quella continuità, quella cosa che ci ma io ho sempre detto che il Crotone è una squadra con delle buone, ottime qualità, che però a volte ci manca con la cattiveria, con la voglia di far punti, se riusciamo a mettere quella che abbiamo messo anche contro il Verona, riusciamo a far male anche alle grosse squadre.